Salve a tutti ragazzi, la sconfitta di ieri devo dire che è stata una brutta botta, però comunque a poche ore di distanza emergono i primi retroscena a partire da quello che si sono detti De Rossi e Karzorp al momento della sostituzione perché comunque tutti al momento del cambio hanno notato solamente l'atteggiamento di Karzorp che al netto della pioggia di fischi che stava ricevendo dallo Stadio Olimpico comunque si è congettato dal pubblico con degli applausi un po' discutibili che molti tifosi hanno recepito negativamente perché hanno recepito quegli applausi in segno di sfida Oltretutto Karzorp non è nuovo a queste problematiche, non parlo solamente di cose calcistiche ma anche di cose comportamentali perché se vi ricordate insomma lo screzio che ebbe con Mourinho che tra l'altro li costò caro perché li costò un periodo in pratica in cui venne sbattuto fuori squadra e poi insomma un po' con la collaborazione del suo agente un po' per necessità è stato reintegrato ma diciamoci la verità comunque Karzorp ha dei problemi comportamentali alla fine da diverso tempo e penso che si stia avvicinando sempre di più il suo addio alla Roma e sono sicuro che molti tifosi brinderanno per questa notizia il concetto è che insomma quegli applausi Karzorp avrebbe potuto tranquillamente evitarseli perché quando commetti un errore del genere che fondamentalmente non ti va a impiccare solamente la partita ma purtroppo rischia seriamente anche di impiccare il discorso qualificazione dovresti semplicemente spargerti il capo di Ceneri e farti un bagno di umiltà quindi ho trovato veramente fuori luogo l'uscita dal campo e chiaramente De Rossi lo ha come dire avvicinato insomma per ritarduirlo anche se a fine primo tempo De Rossi comunque dopo l'errore commesso da Karzorp De Rossi comunque lo ha svelato ieri in conferenza stampa che in un certo senso ha protetto il giocatore perché gli ha detto che comunque giocando a calcio sono purtroppo errori che capitano anche se ovviamente tutti i tifosi se la sono presa particolarmente perché quello là non è un errore del tipo che trovi un giocatore più forte di te ti supera in dribbling e segna quello è un errore di superficialità, di mancanza di attenzione, di concentrazione è un po' una cosa dettata quindi da una condotta, un'imperizia da parte di Karzorp e quindi è questo chiaramente che ha dato più fastidio alla gente però De Rossi nel dialogo intercorso tra loro lo ha un po' assolto tra virgolette dei suoi peccati addirittura gli è arrivato a dire forse per incorarlo, forse per alzare il morale che era comunque soddisfatto della sua prestazione ma in realtà sappiamo bene che se De Rossi avesse avuto a disposizione Selic ovviamente avrebbe giocato Selic e forse se avesse avuto a disposizione Christensen avrebbe giocato Christensen perché comunque avete visto che in una delle ultime apparizioni della Roma in campionato ha giocato Christensen e ovviamente pur non facendo nulla di trascendentale ha comunque reso meglio di quanto fatto da Karzorp nella partita di ieri quindi voglio dire, questa è un po' la retroscena che è emerso nelle ultime ore su De Rossi e Karzorp ora analizzando pure la partita la verità è che Leverkusen è stato superiore alla Roma e chiaramente non è stato superiore solamente dal punto di vista del gioco ma anche dal punto di vista della brillantezza fisica perché insomma questo è emerso soprattutto nel secondo tempo secondo me in maniera piuttosto impressionante cioè su tutte le palle, su tutte le cosiddette seconde palle arrivavano prima loro quando c'era un filtrante e un giocatore della Roma provava ad andare in anticipo, lo perdeva sempre tra l'altro, dobbiamo dirlo, Xavi Alonso gliel'ha incartato a De Rossi perché De Rossi è inutile che dice questo in conferenza stampa in realtà De Rossi aveva preparato la partita come se Leverkusen avesse un centro avanti come Boniface o come Schick quindi che ne dica De Rossi comunque in settimana aveva preparato la partita con la convinzione di affrontare una squadra che comunque avrebbe schierato un centro avanti di ruolo dal momento in cui Xavi Alonso non mette nessun centro avanti e il calciatore più offensivo è Florian Wurz che addirittura però parte da lontanissimo parte praticamente dal centrocampo o comunque dalla tre quarti anche Smalling avete visto che tra Florian Wurz tra Adli, tra Frimpong veramente non sapeva più che pesci prendere perché comunque da questo è emerso che Smalling è un altro difensore fortissimo ma è soprattutto fortissimo sull'uomo quindi quando deve reggere un giocatore alla Giroud naturalmente si pianta sull'uomo e solitamente offre prestazioni molto positive perché avendo un riferimento poi è molto bravo sia a svettare nel gioco aereo sia ad andare in anticipo invece ieri avete visto che comunque anche Smalling senza punti di riferimento e con questi giocatori quizzanti è andato in grande difficoltà non è un caso che il primo gol al netto dell'errore clamoroso di Garzdorp comunque Smalling si vede proprio che è un pesce fuor d'acqua e perde l'anticipo della giocata e si fa anticipare da Adli che rispetto a lui ovviamente che è un colosso dal punto di vista fisico era sicuramente un mismatch quindi questo è per dire che sicuramente Leverkusen ha meritato poi chiaramente come avviene sempre nel calcio sicuramente anche gli episodi fanno tanto perché comunque pronti via se invece della traversa di Lukaku si tramuta in gol o comunque se Garzdorp non fa quella cosa che neanche in terza categoria fanno oppure vi arrivo a dire anche questo se a fine partita Ebram che è un giocatore alto due metri e che in quel frangente doveva solo appoggiare la palla di testa in rete avesse segnato naturalmente la Roma avrebbe avuto tutt'altre prospettive, tutt'altre possibilità in vista del ritorno quindi diciamo che ieri la Roma purtroppo ha demeritato da tutti i punti di vista sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista del gioco sia dal punto di vista che ha commesso degli errori macroscopici nelle occasioni chiave della partita quindi lo dico veramente a malincuore comunque spero ancora in un miracolo sportivo nella gara di ritorno però bisogna essere onesti da un punto di vista intellettuale e devo dire che la Roma ieri ha ampiamente meritato la sconfitta detto questo ragazzi se le mie considerazioni vi sono piaciute mettete un like iscrivetevi gratuitamente al canale e se avete piacere lasciate un feedback nei commenti alla prossima